Sì, in primo luogo possiamo premettere che il Cellon è stato per un anno circa, dal giugno del 15 sino al giugno del 16, suddiviso fra l'esercito italiano che occupava la più alta cima ovest e l'esercito austro-ungarico che invece occupava la cima est con la dorsale che cade verso il passo di Monte Croce Carnico, poco più bassa a livello di vetta. Hai usato il termine Cellon, io ho usato prima il termine Cretta di Collinetta, sono sinonimi, questo era importante. Per salire al Cellon si inizia raggiungendo dal passo di Monte Croce Carnico la Cresta Verde, di cui vediamo peraltro anche questi resti di ricoveri che rappresentavano i casermaggi e anche il centro di coordinamento per le operazioni sia sulla Cresta Verde che sul Cellon. Poi si segue questa mulattiera di guerra che intaglia il dirupato e roccioso versante ovest del Cellon medesimo. Sono imponenti questi ricoveri? Sono molto imponenti, tra l'altro vediamo anche i resti appunto dei sostegni per i cavi elettrici, qualche graffito, qualche epigrafe, qui vediamo menzionata la classe del 1890, e per appunto diversi ruderi di edifici che rappresentavano i ricoveri per i soldati, una parte dei ricoveri principali del settore. La Cresta Verde poi è punteggiata nel suo filo da diverse postazioni e trinceramenti che rappresentavano la prima linea italiana. Si sale per appunto lungo la mulattiera di guerra costruita dagli alpini già nel primo anno di guerra perché siamo per appunto nel versante occidentale del monte, poi ampliata dopo la conquista della cima est che avvenne nell'estate del 1916 quando le forze italiane occuparono tutta la zona sommitale della Creta di Collinetta. Anche in cima alla Creta di Collinetta, sia nella cima est che nella cima ovest, lungo i versanti meridionali e occidentali, con un po' di prudenza dato il terreno ripido, si possono visitare numerose vestigia, dagli trinceramenti ad ulteriori resti di casermaggi sino appunto a diverse caverne, gallerie che passano la Cresta da parte a parte perché erano gallerie in cui trovavano spazio dei cannoni di piccolo calibro. Ecco, pensiamo che il Cellon era importantissimo anche come punto di osservazione perché gli osservatori dell'artiglieria, anche media e pesante, che erano schierati a livello di pezzi nelle retrovie, avevano nel Cellon e nella cima di Collina un ottimo punto di osservazione che permetteva agli italiani di bombardare sino a Mauten, quindi sino alla Valle del Gael. Numerose anche le epigrafi, tra l'altro fuori sentiero c'è una bellissima epigrafe della 109esima compagnia del battaglione Monte Arvenis che fu la compagnia colpita anche dal tragico episodio delle fucilazioni di Cercivento del luglio 1916, le fucilazioni fatte proprio dopo che un plotone di questa compagnia sostanzialmente si rifiutò di andare all'assalto della cima ovest alla cima est del Cellon ma non si rifiutò in maniera assoluta, bensì propose un itinerario e una metodologia d'attacco alternativa a quella indicata dai comandi superiori. Il comandante della compagnia ritenne di interpretare questa proposta alternativa come una vera e propria rivolta, facendo un grave errore giudiziario tra l'altro perché la rivolta era un ammutinamento armato, invece quegli alpini sprotestavano sì ma non avevano minacciato gli ufficiali, quindi non era una rivolta semmai era un ammutinamento e furono processati a Cercivento quattro vennero condannati a morte.